ciao ragazzi benvenuti all'aggiornamento delle 19 allora in pratica oggi vi aggiorno su intanto vabbè sulla situazione lavori in cui ci troviamo appunto adesso come come già saprete stiamo legando le viti ho finito tutto il vigneto davanti all'agriturismo adesso sono in quello dopo insomma e volevo aggiornarvi anche sulla situazione orto come potete vedere qui abbiamo già sistemato tutto quanto infatti abbiamo dopo aver messo le tame l'abbiamo arato l'abbiamo erpicato come avete anche già visto poi abbiamo messo i teli e adesso li abbiamo anche fermati insomma con i pali di cemento abbiamo seminato come già sapete anche le cipolle eccetera eccetera e però appunto volevo dirvi insomma che domani uscirà proprio il video della ratura dell'orto e siamo venuti ormai non so se la settimana scorsa comunque la settimana scorsa quella prima quando siamo venuti ad arare domani appunto uscirà il video sul canale principale ecco è questo periodo qui è abbastanza diciamo abbiamo tanti lavori insomma da fare per questo che sto caricando i video sul canale principale in ordine temporale va bene adesso io non perdo altro tempo e vado a legare le viti ci vediamo domani buona serata a tutti